buongiorno a tutti fra un minutino iniziamo perché sì gli argomenti sono tanti quindi eh partiamo diamo ancora un attimo di tempo alle persone che stanno arrivando di collegarsi grazie grazie ok direi direi di iniziare perché come vi dicevo gli argomenti sono veramente tanti e quindi insomma in un'ora di tempo dobbiamo cercare di svilupparli più possibile intanto vi do vi do il buongiorno e il benvenuto a questa sessione eh informativa sul mondo Microsoft Teams e eh sui prodotti Logitech che saranno a corredo dell'offerta dell'offerta Teams oggi ho il piacere di avere qui con me Francesca Fracassini di di Logitech che terrà una sessione di presentazione appunto sulle soluzioni Logitech e Marielena Rubio che di Microsoft che eh introdurrà l'argomento collaboration modern workplace ovviamente eh legato anche al momento no che stiamo vivendo legato allo smart working che ha ovviamente preso tanto piede in questo in questo periodo io sono Mirko Balboni sono il responsabile della unit cloud collaboration and security di centro computer e ehm nella mia sessione vi illustrerò quelle che sono le caratteristiche generali del prodotto Teams ora lascerei la parola a Marielena che ci racconterà appunto quella che è la visione di Microsoft vi ricordo che al termine delle tre sessioni eh terremo appunto un momento di domande e risposte voi potete iniziare comunque a scrivere le vostre domande cercheremo magari di darvi delle risposte durante anche il meeting di risposte scritte poi alla fine comunque dedicheremo questo momento per un approfondimento va bene ok lascio la parola a Marielena e buon proseguimento grazie Mirko innanzitutto per l'invito e poi per la presentazione allora comincio col condividere lo schermo perché avrò delle slide a supporto ditemi quando lo vedete vediamo sì io vedo Marielena perfetto allora dopo aver dato il buon giorno ai partecipanti eh disattivo la webcam così che abbiamo le slide a tutto schermo allora comincerei con raccontarvi un po' lato Microsoft quella che è la nostra visione del mondo modern workplace dove ovviamente le parole la scelta delle parole non è casuale modern workplace per Microsoft è una gamma di soluzioni che rispondono proprio al modo di lavorare moderno al modo di lavorare contemporaneo che risponde a dei trend ovviamente sono molto diversi rispetto al passato io ve lo racconto dalla prospettiva di una persona quale sono io che lavora come territori channel manager in Microsoft quindi accompagna i nostri partner a proporre delle soluzioni di modern workplace presso clienti della piccola e media impresa italiana che ovviamente costituisce una buonissima parte del tessuto economico italiano quindi è bello vedere come nel confronto quotidiano con le aziende poi si maturi un'esperienza tale da capire quali sono i trend da indirizzare e soprattutto come indirizzarli al meglio con le nostre soluzioni partirei dalla prima slide che vi fa vi racconto un po' quella che è la nostra missione ovviamente in inglese vista la nostra corporation americana empower every person in every organization on the planet to achieve more dove in una traduzione italiana tutto il concetto che ruota attorno all'offerta delle soluzioni Microsoft e sulla capacità di abilitare i nostri clienti come persone e come aziende a raggiungere il massimo del loro potenziale ad ottenere di più dalle attività che fanno e a raggiungere i propri obiettivi ed è intorno a questo principio a questa missione che orbita un po' tutta l'offerta Microsoft soprattutto nel mondo modern workplace dove lo vedremo adesso passando in rassegna come la componiamo e quella che è la nostra filosofia dove il principio è appunto rispondere perfettamente a quello che l'utente oggi sta ricercando e di cui ha bisogno l'approccio è appunto quello utente centrico ovvero abbiamo di fronte un utente per il quale rispondere ad una serie di esigenze di necessità rinnovate di un mondo del lavoro che cambia e sta cambiando veramente drasticamente la trasformazione digitale alla quale stiamo assistendo veramente non ha pregressi nella storia è radicale e ci confrontiamo ogni giorno è verosimilmente quello che abbiamo trascorso negli ultimi due mesi con il lockdown covid-19 ovviamente ha accelerato anche la nostra consapevolezza di come questo mondo del lavoro sta cambiando così radicalmente intanto perché abbiamo persone che lavorano con i nostri team da tantissimi posti diversi inteso sia come geografie e spesso anche fusi orari sia inteso come posti di lavoro non esiste più la scrivania assegnata il proprio posto in ufficio assegnato oltre il quale tutto quello che si fa non è più il lavoro in realtà il lavoro è molto più fluido lavoriamo in tempi della giornata che teoricamente non sarebbero neanche dedicati al lavoro lavoriamo in tanti momenti diversi mentre siamo in treno mentre siamo in cucina in tanti posti che richiedono che abbiamo supporto una tecnologia che ci consenta di essere attivi e produttivi anche in contesti che di per sé non sono l'ufficio tradizionale quindi un tema di location di posti dedicati al lavoro che è molto cambiato rispetto al passato insieme a questo ovviamente non lavoriamo più da una postazione fissa quale può essere il pc aziendale sulla propria scrivania bensì tendiamo ad essere operativi e produttivi da tanti device diversi device di tutti i tipi che abbracciano il pc il tablet i cellulari spesso più di uno e che richiedono quindi che ci sia anche una gestione dei device adeguata e che soprattutto da quei device si possa lavorare ed essere produttivi in maniera equivalente a quando si è seduti ad una tradizionale scrivania è cambiato molto spesso anche il modo in cui comunichiamo e interagiamo con i nostri colleghi con i nostri partner e con i nostri fornitori perché la comunicazione formale che avviene solo ed unicamente via mail tende ad essere molto sempre più spesso superata in favore di una comunicazione molto più semplice più immediata più estemporanea tipica di quello che è il mondo dei social network ed è per questo che anche da questo punto di vista le tecnologie software della comunicazione tendono proprio ad abbracciare un approccio molto più social di comunicazione estemporanea che agevoli appunto la produttività e lo scambio tra i colleghi anche in modalità digitale così come si farebbe in ufficio del resto quante volte noi ci siamo chiesti in questi mesi soprattutto di lockdown caspita cambia tantissimo la relazione che abbiamo con i colleghi beh facciamo in modo con la nostra tecnologia di comunicazione e soprattutto con il mondo microsoft teams che poi esploreremo meglio con mirko nel suo intervento proprio di simulare quella che potrebbe essere un'interazione reale con i propri colleghi con i propri partner e con i propri fornitori e per fare in modo da lavorare come se fossimo in ufficio con questa prospettiva proprio della comunicazione estemporanea cosiddetta social insieme a questi elementi altro elemento di uno scenario che cambia drasticamente e l'utilizzo sempre più presente di tantissime app di terze parti sulle quali andiamo a lavorare ad integrare il nostro lavoro ovviamente avere tante app richiede una gestione adeguata delle app e tutta una serie di tematiche di sicurezza che devono essere tenute sotto controllo da questo punto di vista anche la questione app diventa un fortissimo trend di cambiamento nel nostro mercato del lavoro perché sulle app sono proprio appoggiate tantissime attività che noi svolgiamo nel quotidiano allo stesso modo i dati aziendali tendono ad essere ad avere il loro storage sia in data center privati di oster sia nel cloud anche da questo punto di vista mantenere un controllo completo complessivo di dove teniamo il dato aziendale è fondamentale ai fini della sicurezza delle aziende questi trend sono quelli che caratterizzano la trasformazione digitale del mondo del lavoro alla quale cerchiamo ovviamente con le nostre tecnologie di dare delle risposte soprattutto indirizzando quelle che sono le abitudini del quotidiano che hanno reso il mondo del lavoro necessitante di una tecnologia diversa il fatto che spendiamo tantissimo tempo a lavorare in gruppo a lavorare in collaborazione e non più in pura autonomia non più da soli come singoli individui fa sì che dobbiamo avere a supporto una tecnologia che consenta quello scambio quell'interazione sia in maniera immediata ed estemporanea sia anche uno scambio documentale adeguato con sync adeguati per esempio sui file o la possibilità di lavorare in tante persone e questo è un elemento che dobbiamo assolutamente indirizzare con la nostra tecnologia di modern workplace l'altro aspetto è la capacità di remotizzare il lavoro di renderlo smart quindi con tutte le dinamiche che lo smart working comporta e far sì che la tecnologia sia proprio a supporto del lavoro a distanza tra persone simulando la prossimità di scrivania abbiamo già parlato del trend social quindi della comunicazione immediata così come se si fosse in ufficio e tutti questi trend ovviamente devono essere abbracciati da condizioni di sicurezza che siano veramente adeguate per la gestione dei dati soprattutto in considerazione di GDPR e degli obblighi che diventeranno sempre più stringenti verso il pieno controllo dei rischi di sicurezza che le aziende hanno e avranno a maggior ragione dove stimiamo ovviamente soprattutto le grandi aziende tutti gli anni dovranno rendere conto dei rischi di sicurezza ai quali vanno incontro che cosa succede quando il trend è presente sul mercato le persone hanno quel tipo di approccio al mondo del lavoro perché è l'andamento l'evoluzione naturale del modo di lavorare ma la tecnologia non supporta adeguatamente questi trend succede quello che in realtà vediamo molto spesso sui nostri clienti dove riscontriamo delle realtà in cui c'è la volontà di sviluppare un modo di lavoro diverso più efficiente più produttivo più rispondente ai bisogni del quotidiano ma dove ancora spesso la tecnologia non è adeguata per svolgere quelle funzioni riscontriamo per esempio molto spesso ovviamente con centro computer condividiamo tante esperienze in merito nel nostro lavoro quotidiano condividiamo per esempio che la collaborazione sui file, sui documenti in generale tutta la gestione documentale delle aziende tende a non essere coordinata in maniera adeguata questo fa sì che quando le persone vogliono sviluppare delle idee vogliono lavorare insieme per creare nuovi progetti per farli avanzare in maniera veloce ci siano dei rallentamenti necessari a causa di una tecnologia che non è in grado di supportare quell'agilità e quel modo di lavorare di grande flessibilità succede che per esempio ci si scambi file ripetutamente in versione 1, 2, 3 e a salire via mail senza possibilità di lavorare a 4 o più mani sui file o mantenere un versioning dei file che sia rispondente al nostro andamento veloce del lavoro ovviamente il controllo della gestione delle versioni dei file è fondamentale e deve essere supportato da una tecnologia che questo versioning lo consente come vedremo e per esempio la tecnologia di Microsoft Teams e dunque diventa un elemento fondamentale quando si lavora a più mani su dei progetti e su dei documenti perché abbiamo detto che ormai il grosso del lavoro è un lavoro in collaborazione e non più solo individuale allo stesso modo è molto difficile quando si lavora sui file e sulla documentazione coinvolgere dei collaboratori esterni se non essi clienti o partner quando non si riesce a trovare il modo per lavorare adeguatamente insieme dunque questo tema della gestione dei file che oggi tende ad essere non indirizzato correttamente è un tema che vedremo è al centro dell'evoluzione tecnologica di Microsoft Teams perché fa sì da superare questo tipo di trend e problema che riscontriamo nel quotidiano nelle nostre aziende allo stesso modo quello che si verifica molto spesso è di avere tante risorse documentali e di dati aziendali che però sono disperse sono in tanti posti diversi di difficile accesso e questo fa sì che l'utente ogni volta che debba accedere a delle informazioni a dei documenti nuovi debba spesso ricorrere agli IT manager così rallentando anche la produttività del dipartimento IT che deve far fronte a tantissime richieste tantissimi ticket mentre se avesse una repository condivisa magari unificata questo tipo di questione non ci sarebbe affatto allo stesso modo la dispersione delle risorse fa sì che tutto il tempo della formazione per esempio di nuove persone che entrano in azienda oppure di persone che cambiano lavoro all'interno dell'azienda sia molto rallentato mentre potrebbe essere veramente semplificato reso agile reso flessibile con una gestione appunto unitaria compatta ed è proprio l'idea che c'è dietro l'hub quando noi diciamo e lo sentirete molto spesso menzionato da Mirko nel suo intervento che Teams è il lab per la comunicazione e la produttività di Microsoft vuol dire proprio questo trovare in un unico strumento in un'unica piattaforma tutto quello che serve per accedere alle risorse e far sì che non siano disperse appunto e quindi non ci rallentino il lavoro altra caratteristica degli ambienti in cui la tecnologia non è veramente a pieno supporto e al passo con i tempi sono tutte le dinamiche relativi alla sicurezza e alla mancata sicurezza soprattutto laddove stiamo parlando di app di terze parti che vengono utilizzate in maniera integrata per svolgere il nostro lavoro quello che si verifica molto spesso è che la multi-factor authentication per esempio non è implementata su tutti gli utenti ci sono chat non sicure in cui ci si scambia dati sensibili magari dei propri clienti dei propri partner della propria azienda e ovviamente non c'è la gestione adeguata per quel tipo di dati sensibili allo stesso modo tutto quello che viene condiviso come file rischia di non essere sotto il controllo delle T che invece è qualcosa che va necessariamente monitorato e su cui fare un adeguato follow up per far sì che invece ci sia un pieno controllo del dato aziendale come richiesto dalla nuova regolamentazione in generale come sarà sempre più un trend ai fini appunto della sicurezza delle nostre aziende altro discorso ancora sono tutte le risorse che lavorano in mobilità o lavorano in remoto dove sono spesso tante le dinamiche di bring your own devices quindi le persone che portano i propri device in azienda la possibilità di coinvolgere invece persone che sono in piena mobilità magari geografica e che hanno bisogno comunque di essere produttive nel corso della giornata e l'interazione con tutto il mondo all'esterno dell'azienda quindi per esempio fornitori e clienti bisogna far sì che ci siano soluzioni adeguate per avere quel tipo di interazione in mobilità e in smart a supporto ovviamente è tema caldissimo per i mesi che abbiamo vissuto proprio adesso che sicuramente ci hanno aperto gli occhi su quelle che sono le esigenze e hanno aumentato la nostra sensibilità verso soluzioni che siano sempre più evolute in quel senso e migliorino appunto la produttività di chi oggi si trova in condizioni di remotizzazione e mobilità Microsoft con la propria suite di prodotti cerca proprio di rispondere a questi trend in maniera quanto più possibile completa abbracciando sia le esigenze rinnovate di comunicazione e produttività in maniera semplice e immediata sia mettendo al centro di tutta la propria filosofia di prodotto le tematiche di sicurezza e l'abbiamo fatto costruendo una suite ampia che abbraccia il mondo della produttività e della collaborazione che è tipicamente il mondo di Office e di Office 365 quindi modalità cloud anche il mondo del sistema operativo Windows 10 nella sua versione enterprise quindi con feature di sicurezza ovviamente molto più spinte nonché tutto il mondo della sicurezza Microsoft e della gestione dei device che per noi è enterprise mobility in security questi tre pilastri costituiscono la nostra suite Microsoft 365 che dunque non è diversa da Office 365 semplicemente integra Office 365 all'interno di una suite di prodotto più ampia che abbraccia anche il sistema operativo e enterprise mobility in security ovviamente è buona norma che il software abbia una controparte di hardware adeguata evoluta e moderna e questo è il motivo per cui ovviamente abbiamo delle partnership sempre molto forti con produttori di hardware e abbiamo in casa Microsoft anche la nostra linea di device che è tutto il mondo Surface che ha una gamma molto ampia per tutte le esigenze e i trend che abbiamo passato in rassegna a poc'anzi Microsoft 365 vuole appunto unire in un'unica suite una serie di prodotti best in class che forniscano al cliente una soluzione completa per indirizzare queste tematiche rinnovate del mondo del lavoro e del mondo digitale con la sicurezza al centro assoluto dell'attenzione lo fa ottimizzando il tutto in un'unica sottoscrizione che come abbiamo detto prima è sempre utente centrica e consente all'utente di avere accesso con la stessa sottoscrizione a più device e quindi di lavorare pienamente di essere sempre al massimo produttivo anche in mobilità e in remotizzazione ovviamente il grande vantaggio di avere una suite che integra tutti questi elementi innanzitutto l'integrazione delle parti che si parlano molto bene tra di loro perché sono nate insieme e sia ovviamente anche il prezzo perché non sarà la somma delle parti ma sarà appunto il prezzo conveniente di una suite che mette tutto insieme Microsoft 365 si rivolge a tagli di aziende diversi e spazia tra la piccola e media impresa dove tendenzialmente il nostro prodotto di punte Microsoft 365 Business sia ad aziende più grosse dove siamo invece piuttosto in fascia enterprise senza escludere ovviamente tutto il mondo invece delle scuole e delle università che ha proprio delle suite di prodotto dedicate al mondo education come dicevamo prima tanto nel mondo Microsoft 365 come suite di prodotto più ampia quanto nel mondo Office 365 come suite invece di collaborazione e produttività stand alone Teams Microsoft Teams è il grandissimo protagonista come lab per eccellenza della comunicazione della produttività e del lavoro in team come ovviamente dice dichiare il suo nome stesso Teams vuole essere un hub proprio perché l'utente che utilizza Teams non dovrebbe fare un salto da un applicativo ad un altro ma deve invece ritrovare nell'hub unico di Teams tutto quello che gli serve per affrontare la sua giornata lavorativa e questo passa dalla compresenza di chat aziendale per esempio per chattare con i colleghi possibilità di creare dei team di lavoro in cui si scambiano le informazioni con l'integrazione ovviamente su SharePoint dove vengono depositati tutti i documenti aziendali basta per l'integrazione con Outlook e con il proprio calendario consentendo all'utente di accedere alle proprie riunioni del giorno direttamente da Teams senza uscire dalla piattaforma basta anche per la gestione del telefono e delle chiamate perché anche quella è una parte che può essere integrata all'interno di Teams e consente di ritrovare appunto in Teams il proprio telefono fisso io per esempio nella mia esperienza in Microsoft non ho un telefono fisso che mi ha assegnato ma ho un numero fisso su Teams dove sono reperibile per i partner e per i clienti che gestisco vedremo poi con Mirko passando nel dettaglio in rassegna tutte quelle che sono le funzionalità di Teams come il mondo di Teams sia una piattaforma che va ben oltre la chiamata e la videoconferenza è un mondo di collaborazione vera molto evoluta in cui alla chat al meeting alla videochiamata si unisce la possibilità di condividere file documenti e integrare tutta una serie di applicativi sia di casa Microsoft che di terze parti che consentono da quell'unico hub di Teams di fare il nostro lavoro quotidiano al massimo delle nostre potenzialità il tutto con una grandissima attenzione come ci dicevamo anche prima sulle tematiche di sicurezza che sono sempre integrate all'interno di Teams e sono di livello assolutamente enterprise attraverso Teams cambia radicalmente il modo in cui noi riusciamo a lavorare con i nostri colleghi proprio appunto rispondendo a quelle tematiche a quelle esigenze del lavoro quotidiano che ci raccontavamo prima perché nella piattaforma è possibile avere quella comunicazione immediata estemporanea con i colleghi la possibilità di condividere in diretta dei file e lavorare in sincronia con tutti gli altri senza sovrascrivere le versioni quindi si evita quello che ci dicevamo la condivisione di tante versioni diverse di uno stesso file ma in quest'unico hub proprio come vedete nella schermata per esempio nel tab files si ritrovano i file al loro ultimo aggiornamento lavorati in sincronia con tutti i colleghi allo stesso modo l'integrazione con altri strumenti aziendali fa sì che si vada oltre il concetto della collaborazione e della comunicazione tra colleghi ma si entri proprio nel vivo di processi aziendali che possono essere rinnovati e ottimizzati partendo da questa piattaforma di scambio delle informazioni dove vediamo in questa schermata per esempio l'integrazione con Power BI per vedere i dati al loro ultimo aggiornamento in tempo reale e condividerli all'interno del proprio team di lavoro contestualmente sono tantissime tantissimi gli altri applicativi di Microsoft che sono integrati e diventano parte del lavoro di un team del lavoro quotidiano a partire da shifts per i turni oppure planner per la pianificazione delle attività e così via insieme invece a tutte le app di terze parti che sono integrate e che nascono per semplificare il nostro lavoro quotidiano allo stesso modo la capacità di connettere persone all'interno dell'organizzazione ma anche all'esterno perché Teams è aperto anche alla gestione documentale per esempio con i nostri partner i nostri clienti con dei team appositi fa sì che tutta l'organizzazione possa collaborare in tempo reale e in maniera molto fluida e semplice avendo un'integrazione perfetta che è della propria agenda come ci dicevamo prima ma anche soprattutto tra tanti device diversi perché l'esperienza utente da device è la medesima da mobile o da tablet e questo fa sì che la produttività di ciascun utente possa essere la stessa anche in contesti diversi quindi anche al di fuori dell'ufficio non voglio sottrarre altro spazio alla rassegna delle funzionalità di Teams perché Mirko Balboni entrerà nel vivo di tutto questo nel suo intervento quindi io mi fermerei qui e spero invece di avervi dato un po' una panoramica della filosofia Microsoft del modo in cui noi concepiamo il modo di lavorare moderno e di come Teams come piattaforma si inserisca in questa filosofia e nasca proprio per semplificare il nostro modo di lavorare a questo punto io ti lascerei la parola e vi ringrazio grazie a te Marilena per la presentazione come diceva Marilena io adesso vi introdurrò un po' più nel dettaglio in quelle che sono le funzionalità di Teams gli argomenti sono tanti quindi sarò veloce Teams meriterebbe una sessione meriterà una sessione spesso le facciamo dedicata perché veramente le sfumature sono tante io cercherò di toccare i punti fondamentali intanto datemi solo un minuto per condividere il mio schermo ok dovreste dovreste vedere la mia presentazione sì spero ok bene niente intanto parto un attimo velocemente a presentarvi centro computer ma per chi non ci conosce e ovviamente soprattutto il mio team è un team è una unit una unit nata quest'anno da un team che era composto da cinque persone quest'anno è nata questa unit siamo in dodici io ne sono a capo spicca tra di noi Luca Vitali che è il nostro MWP Microsoft in ambito proprio collaboration è una persona che ha più di dieci anni di esperienza nell'ambito appunto legato alle soluzioni come Microsoft Teams e i suoi antenati magari lo avete conosciuto in qualche evento in qualche conferenza che ogni tanto lui tiene per Microsoft per altri o per altri o per altri vendor centro computer è goal partner su tutta una serie di tecnologie proprio in questo periodo stiamo rinnovando le nostre competenze le stiamo anche ampliando verso altre soluzioni compreso ad esempio la security come citava Marilena che sempre di più diventa strategica nel mondo Microsoft anche in ottica di cloud ovviamente centro computer è anche un partner molto molto forte di Logitech da diversi anni fin da quando Logitech ha deciso di aggredire il mercato business centro computer ci ha creduto e ha sposato la filosofia di Logitech quindi ad oggi i dieci anni e più di esperienza sul mondo collaboration fonia nel mondo Microsoft tele partnership con Logitech fin dall'inizio come vi dicevo ci permette di rispondere a 360 gradi a tutti i progetti legati a questi ambiti Microsoft diceva poi c'è Marilena con noi lo sa meglio di me che quest'anno sarà l'anno in cui punteranno fortemente sulla fonia ok Teams nelle aziende centro computer sono dieci anni che sviluppa la fonia Microsoft da Link anche da Office Comunicator ma diciamo che eravamo proprio agli albori in avanti tant'è che il nostro centralino IP è diventato Link 2010 quasi dieci anni fa poi si è evoluto oggi usiamo Teams non abbiamo più telefoni usiamo praticamente solo cuffie smartphone e pc quindi diciamo che siamo stati un po' dei precursori in questo senso e questo ci ha permesso di arrivare ad oggi ad essere sostanzialmente il tipo di partner che vedete nella slide dopo alcune delle nostre competenze in casa Microsoft solo per ricordare un po' gli ambiti che seguiamo ecco ci ha permesso di diventare come vi dicevo questo tipo di partner un partner che segue l'azienda che ha la necessità legata al mondo Microsoft 365 perché non possiamo parlare di Teams e basta non esiste una strategia Teams senza una strategia 365 questo è un punto che noi evidenziamo e rafforziamo sui clienti perché la strategia deve comprendere un'evoluzione che parte magari da una migrazione della posta con l'adozione poi di Teams e via dicendo ma è un'evoluzione che comprende tutta una serie di applicativi che sono all'interno dell'Office 365 ovviamente Teams come diceva Marilena è l'hub è il cuore è l'applicazione che regna all'interno di questa suite di prodotti e poi vedremo come comunque il centro computer vi può accompagnare in tutto il percorso fino alla formazione finale che non è solo ad uso esclusivo del personale IT ma anche con sessioni formative sul campo dell'utente finale perché le suite 365 ovviamente non sono un singolo prodotto ma hanno un'integrazione tra di loro di varie soluzioni che va insegnata all'utente per poi poterle sfruttare meglio alcuni nostri clienti Microsoft 365 e Logitech che cito velocemente Granarolo che è probabilmente la prima azienda dove abbiamo sviluppato un processo di migrazione da quello che era il mondo videoconferenza tradizionale quindi le classiche sale H323 istituzionali verso il mondo di collaborazione Microsoft e con sale Logitech quindi Granarolo cliente molto importante con un numero importante di sale ha deciso a un certo punto di spostare tutto il suo parco sale dal tradizionale mondo H323 proprio al mondo Microsoft prima con Sky for Business e sale Logitech basate su Sky for Business oggi con sale Teams poi ce ne sono altre all'interno di questa questa plettora di clienti che hanno ovviamente fatto lo stesso percorso perché oggi ormai si parla di questo tipo di modo di collaborare quali sono le sfide di oggi per un IT? lo abbiamo visto anche in era Covid abbiamo fatto un salto in due mesi abbiamo fatto un salto tecnologico di due anni quindi questa è stata una sfida molto grossa però ha rispecchiato un po' il fatto di di essere un pelo impreparati su certi argomenti quindi l'adattarsi rapidamente lo abbiamo toccato con mano in questo momento la riduzione dei costi ovviamente poter dare al mio utente la mia utenza una serie di servizi però pagandoli il giusto non strapagandoli ma neanche adottando soluzioni scarse non cedetemi il termine pagandole poco prezzo collaborare e condividere assolutamente oggi ormai è fondamentale penso che quotidianamente ognuno di noi faccia diverse conferenze meeting chatti o parli in con un soft phone con un proprio collega ormai tutti i giorni in questo senso quindi è diventato un aspetto quotidiano del nostro lavoro del nostro vivere ok lo smart working questo lo avevamo messo prima dell'emergenza e direi che è stato anche profetico lo smart working è diventato un must non torneremo più indietro magari cambierà qualcosa verrà regolamentato ancora diversamente ma l'idea di massima è che ormai non si torni più indietro lo smart working diventerà una realtà è ormai una realtà assodata ok sicurezza e supervisione è ovvio che io tutti i servizi che vado a dare ai miei utenti che sono i smart working che lavorano da romoto o anche all'interno dell'azienda devono essere servizi che sono sicuri i miei utenti se io non gli do qualcosa di coordinato strutturato gestito dall'IT sfruttano che cosa sfruttano la shadow IT cioè l'IT che trovano al di fuori dell'azienda whatsapp il google drive gratuito tutto ciò che mi rende disponibile ok il mercato all'esterno chattano tra di loro e creano gruppi di whatsapp infiniti oppure rimettono dei dati aziendali e questo succede in tante aziende all'interno di repositori esterni che non sono assolutamente controllati dall'IT quindi cosa deve fare l'IT deve dare soluzioni come ad esempio le suite office che mi permettono di ovviare appunto questa shadow IT inoltre il tutto è ovviamente certificato GDPR quindi questi sono i due aspetti della sicurezza Microsoft ha fatto un salto enorme nell'ambito sicurezza oggi viene vista in modo diverso rispetto all'inizio ed è e permette da tutta una serie di soluzioni legate al mondo 365 e Azure che sono veramente all'avanguardia oggi non ne parleremo più di tanto però ci tengo a precisare che è un aspetto da tenere assolutamente in considerazione perché nel mondo cloud l'identity è il fulcro della protezione non più il device ma la identity che cos'è Teams Teams è un hub che comprende che cosa tutta una serie di feature all'interno ha una persistent chat quindi ho chatto con colleghi in gruppi di colleghi all'interno dei team e tutto viene ovviamente mantenuto un po' come succede ovviamente con Whatsapp mi permette di creare i team che sono degli ambienti di collaborazione tra persone che condividono gli stessi interessi ha la possibilità di avere all'interno un file sharing basato su SharePoint online altra applicazione molto molto sempre più utilizzata diciamo nel mondo Microsoft 365 mi permette di fare meeting audio e video ed integrarmi con la PSTN quindi con l'affonia aziendale poi vedremo molto velocemente come mi permette di avere tutta una serie di aziende che stanno sviluppando add-on per il mondo Teams e stanno integrando i propri applicativi nel mondo Teams c'è l'app store di Teams che è pieno di soluzioni di terze parti che si integrano all'interno dell'interfaccia di Teams scusate sono andato un po' troppo veloce ok velocissimamente Teams è giovanissimo ma ha fatto salti fatto passi da gigante è uscito nel marzo 2017 dopo tre anni è una soluzione matura e su cui Microsoft sempre di più investe ogni mese escono novità ogni mese ci sono feature aggiuntive che vanno a potenziare quello che è già al suo cuore ogni mese produttore di terze parti sviluppano soluzioni di add-on hardware e software per potenziare le caratteristiche del prodotto in questo momento non esiste un prodotto sul mercato che ha un parco partner come a Teams e ha un'evoluzione come a Teams ci sono competitor ma così completi con questo tipo di parci con questo hype perché tutti sviluppano tutti cercano di integrarsi con Teams non esiste nessun altro tipo di soluzione voi potete ovviamente andare a verificare voi stessi in giro velocemente collaborare e condividere ogni comunicazione ha il suo strumento la mail rimane non va a scemare ma va a ridursi o almeno si spera perché siamo bombardati quotidianamente tutti di mail ok con le chat di Teams che sono anche persistenti tutta una serie di comunicazioni meno importanti meno istituzionali debbono transitare su quel canale lì in modo da alleggerire comunque il traffico che ribadisco su tutta una serie di comunicazioni importanti rimane Yammer Yammer è uno strumento sottovalutato ma che si è usato nel modo giusto è uno strumento molto importante all'interno di 365 è uno strumento che mi permette è un social aziendale che mi permette che cosa di andare a tipo LinkedIn a pubblicare a tutta la mia piazza è la mia piazza aziendale a tutta la mia piazza che cosa delle novità degli annunci marketing dei nuovi prodotti dei progetti realizzati tutta una serie di comunicazione che servono a tutta l'azienda se non avessi Yammer dovrei mandare delle mail a tutti e torniamo da capo andiamo di nuovo ad appesantire lo strumento mail magari nessuno le va a leggere in Yammer io ho questa piazza virtuale che è questo social ribadisco come è LinkedIn dove vado a fare tutta questa serie di comunicazioni imparando ad usarlo noi lo facciamo da un po' di tempo diventa davvero utile proprio per andare a fare tutta una serie di annunci il client teams è disponibile per qualsiasi piattaforma praticamente il client per smartphone e tablet è strepitoso funziona l'esperienza utente è veramente strepitosa ha tutte le possibilità che ha il client su pc con qualche chicca in più quindi direi che non ho veramente problemi nell'utilizzo di teams né da pc e tanto meno proprio da mobile ok l'integrazione tra l'altro con i sistemi operativi mobile è talmente ampia che se ricevo una chiamata su un se ho integrato il mio numero di cellulare ovviamente a teams ok e ricevo una telefonata via teams il telefono squilla con applicazione chiusa e manco quasi mi accorgo che è una chiamata team se non che sotto c'è scritto chiamata teams ma l'interfaccia è la medesima perché l'integrazione con le api del telefono sono veramente veramente alte le chat come vi dicevo velocemente sono persistenti sono molto utili vanno a ridurre tutte quelle comunicazioni via posta che normalmente avrei fatto mandando un messaggio anche banale vieni a prendere un caffè è una stupidata però lo facevamo oggi la chat serve anche per andare a fare comunicazioni di importanza relativa e andando da leggere la posta in più in realtà essendo persistente mi permette di tenere traccia di tutta una serie di confronti che io ho con i singoli colleghi oppure di gruppo a cui andare puoi attingere in un secondo momento e questo è molto molto importante e unitamente allo stato di presenza quindi al pallino verde giallo o rosso mi permette anche essendo meno invasiva magari di una telefonata di sondare anche la disponibilità del collega questo non è male vedo il pallino verde comunque sia chiedo se il collega in quel momento è disponibile a una telefonata a una conferenza o a qualcos'altro ok la chat serve anche per lavorare in maniera migliore nel rapporto col collega ve lo racconto anche per esperienza personale perché ormai come vi dicevo sono anni che lavoriamo con strumenti di collaborazione i team sono il cuore di team all'interno del team io raduno raggruppo persone che hanno gli stessi interessi all'interno dell'azienda ad esempio il marketing raggruppo il marketing crea il suo team all'interno del team va a condividere documenti su cui lavora contemporaneamente e tramite il version in di SharePoint ne ho sempre traccia anche delle versioni precedenti in caso venga cancellata una versione o venga modificata per errore ok quindi il version SharePoint mi è aiuta a questo sono raggiungibili ovunque io posso lavorare sui miei documenti un po' come faccio con OneDrive posso lavorare sui miei documenti ovunque sono se sono in viaggio se sono a casa se sono in qualsiasi posto sostanzialmente dove ho una connettività in più posso andare a condividere all'interno dei teams delle applicazioni di Office 365 Planner Shift fogli di Excel presentazioni PowerPoint ma anche applicazioni di terze parti che sono integrabili all'interno dei teams oppure siti esterni noi abbiamo caricato nel nostro team della unit tutto ciò che è legato alla formazione ad esempio del mondo Microsoft quindi abbiamo dei link ai siti Microsoft dove ci sono della documentazione che ci serve sia per formazione ma anche magari per assistenza abbiamo collegato OneNote per creare una sorta di wiki personale sulle piattaforme dei clienti su quello che sono tutta una serie di informazioni lì è un po' la fantasia che va che va ovviamente a limitare tutto questo ovviamente gestito in governance dall'amministratore globale del global admin del tenant e di teams quindi il global admin può lasciare la libertà ma può anche andare a dire che certi team non si possono fare non si possono usare certi titoli per il team o cancellare determinati team quindi c'è la possibilità di gestire la stessa governance meriterebbe un percorso un momento da parte molto velocemente posso invitare degli utenti guest dentro i team e dentro le chat e dentro le call ovviamente ok scusate la nuova modalità di utilizzo del file system sharepoint sempre di più i nostri progetti tra 6.5 e teams portano le aziende a migrare non dico in toto ma almeno grosse porzioni del file system verso sharepoint online con tutta una serie di vantaggi ok la possibilità come vi dicevo di integrare strumenti del mondo tra 6.5 planner noi lo usiamo molto ad esempio in questo periodo stiamo dando tantissimi esami microsoft appunto e stiamo usando planner per andare a identificare chi ha già fatto cosa e cosa manca molto utile in questo senso non è project però è uno strumento molto utile per organizzare tutta una serie di attività come vi dicevo noi oggi lo stiamo usando molto per gestire appunto gli esami microsoft allo stesso modo usiamo shift ad esempio per i turni del supporto dell'HD andiamo a gestire con shift tutto quello che sono i turni di shift è un'altra applicazione che è all'interno di 365 che serve per questo o meeting non vi parlerò di strumenti perché ci penserà Francesca successivamente vi parlerò delle caratteristiche di teams che vengono enormemente potenziate dalle sale riunioni di logitech ok quindi io vi dirò che cosa offre teams e sappiate che tutto quello che io vi racconterò sarà ed è all'interno delle sale logitech che viene potenziato dalle sale logitech il live motive del meeting teams è la semplicità cioè non scordatevi le sale con telecomandi enormi con miliardi di bottoni e con l'IT che deve assolutamente intervenire per creare un meeting il prodotto di punta di logica si chiama TAP semplicemente perché voi fate TAP su monitor touch poi Francesca vi racconterà bene allora possibilità ovviamente di creare meeting all'interno di Outlook quindi io creo il meeting invito le persone esterne arriva un link via WebRTC le persone partecipano con tutte le funzionalità del caso quindi libertà massima di invitare chiunque ci sono dei browser supportati Chrome i browser Microsoft Apple Mozilla no Firefox neanche non mi risulta che siano supportati però penso che la maggior parte delle aziende utilizzi i browser che vi ho elencato possibilità di aggiungere un licensing per fare in modo di far partecipare ai meeting persone via telefono Microsoft ha in ogni praticamente paese un numero di telefono disponibile in Italia e Milano che un'utenza può chiamare per poter partecipare alle riunioni se non ha una connettività dati è un add-on si chiama audio conference che vado ad aggiungere licenze sta arrivando il live caption quindi la possibilità di parlare in italiano con un interlocutore cinese lui dall'altra parte avrà i sottotitoli in cinese e io da questa parte avrò i sottotitoli in italiano in questo momento esiste inglese English to English ok però arriverà da ogni lingua verso ogni lingua cosa secondo me è veramente veramente utile già in inglese funziona molto bene se uno lo vuole testare lo può andare ad abilitare esiste già anche all'interno di PowerPoint questa funzionalità sempre velocemente possibilità con un certo tipo di licensing quindi parliamo di licensing di Microsoft 365 E3 Office 365 E3 adesso ormai è Microsoft 365 possibilità di creare eventi live meeting quindi eventi in streaming utilizzabili tramite appunto l'integrazione con Microsoft Stream che è un'altra applicazione all'interno della suite 365 che può ospitare fino a 10.000 utenti l'utente interagisce con il relatore via chat quindi è un evento in streaming però se devo fare a noi è capitato un evento da più di 250 persone che è il limite di Teams posso con il mio license ingiusto creare dei live event di questo tipo che ospitano fino a 10.000 utenti in streaming companion mode possibilità di partecipare alle riunioni con due device diversi io sono già all'interno della mia riunione con il mio PC quindi debbo utilizzare lo smartphone per condividere un contenuto dello smartphone oppure la camera dello smartphone per inquadrare non so le texture di un tessuto ad esempio avvio l'applicazione Teams dello smartphone si accorge che il mio utente già in un meeting mi dice vuoi partecipare allo stesso meeting dove sei già collegato sì a quel punto dallo smartphone io posso andare entro nel meeting posso andare a condividere il contenuto dello smartphone oppure la telecamera in modo tale appunto da riprendere un oggetto molto vicino se mi devo spostare capite che se sto facendo una riunione in una sala con una telecamera logitech fissa un po' un problema andare a inquadrare a meno che non zoom ma se voglio proprio spostarmi lateralmente è un po' un problema così vado a ovviare utilizzando utilizzando lo smartphone funzionalità molto utile quindi doppio accesso alla stesso meeting con due device diverse ok proximity based meeting join cioè le stazioni logitech fanno beaconing cioè inviano continuamente dei beaconing bluetooth e dicono sono libera sono libera sono occupata sono libera io sto partecipando a un meeting nel corridoio col mio smartphone passo vicino a una stazione logitech il client mi dice guarda che la sala 1 che ospita una stazione tal dei tali è libera per il meeting vuoi trasferirti lì? sì mi trasferisco in automatico dallo smartphone alla sala 1 questo è molto utile se ho molte sale e magari non ho prenotato la sala succede sto cercando disperatamente no una sala e sto girando all'interno dei miei corridoi col mio smartphone attivo e il meeting su smartphone in questo caso vengo avvisato della disponibilità o meno della sala senza dover avere pannellini o cose varie perché ci pensa al beacon in bluetooth della sala questa è un'altra funzionalità molto utile tutto compreso all'interno di Teams non dovete avere licenze aggiuntive sono tutte funzionalità comprese e tante altre ne usciranno ok un'altra cosa molto carina che si fa sempre con gli strumenti logitech è la content sharing camera cioè io posso dalla sala logitech attivare la condivisione di una seconda cam può essere anzi normalmente perché è certificata è una logitech collegata alla mia stazione logitech in modo tale che se questa cam riprende una lavagna chiamiamola analogica quindi a pennarello o di carta o di quelle cancellabili tramite la tecnologia di office lens io la uso per lo smartphone è una tecnologia che mi permette di scannerizzare i documenti comodissima sullo smartphone io la uso tantissimo ok mi permette di raddrizzare la mia lavagna mettere in trasparenza chi sta scrivendo come vedete nell'immagine piccolina purtroppo un po' piccolina mettere in trasparenza chi sta scrivendo e mettere in sovraimpressione ciò che la persona sta scrivendo quindi la mia lavagna diventa digitale in questo momento non posso interagire da remoto però vedo in trasparenza in digitale quello che la persona scrive se cancella tutto viene cancellato noi ce l'abbiamo nella nostra sala mostra e funziona veramente veramente bene è un modo per ridare vita alle lavagne analogiche le lavagne di carta le lavagne che magari ho nelle sale e non uso praticamente più con questa tecnologia io posso tornare a sfruttare questo tipo di oggetti vediamo l'enterprise voice anche perché il tempo lo ho praticamente finito un accenno veloce Teams può diventare il centralino della vostra azienda ed è già il centralino di molte delle aziende che avete visto all'inizio Teams ha tutte le funzionalità basilari di un centralino IP con un soft phone che è il proprio client nettamente superiore a tutti gli altri soft phone perché fa molte più cose e le fa anche meglio ok e con l'estensione quindi con gli add-on di partner terze parti che hanno sposato Teams mi permette di avere tante altre funzionalità in più non solo noi lo possiamo integrare con qualsiasi piattaforma 3CX Alcatel o come siamo chiesto ultimamente i SELTA possiamo integrarlo come con poi vi dico di questa cosa qua con che è molto importante scusate il mouse sta facendo un po' il matto eccoci qua con un voice gateway certificato noi lavoriamo con Ribbon che è fa da ponte a tutte le connessioni quindi SIP Trunk con Teams SIP Trunk o primario dipende che cosa avete con la vostra linea e facciamo da ponte con qualsiasi altra cosa a questo punto Teams anche col vostro attuale PBX Teams diventa anche lo strumento della fonia quando avrete migrato tutto e tolte tutte le varie diciamo linee analogiche vi dicendo eliminiamo completamente il centralino vecchio e lavorate così oggi questo è possibile grazie finalmente agli amici di Microsoft perché per tutti perché anche nei piani business è finalmente disponibile la business voice che abilita le funzionalità voice anche per gli utenti business questo è da aprile e questo apre un mondo veramente veramente interessante non vi dico delle bugie se vi dico che oggi noi ogni settimana abbiamo almeno 3-4 opportunità e progetti legati alla fonia su Teams fortunatamente come vi dicevo abbiamo iniziato dieci anni fa per cui abbiamo preso un po' di vantaggio rispetto agli altri una delle ultime cose che stiamo facendo in ambito fonia è il full cloud mettiamo i ribbon virtuali su Azure colleghiamo in SIP trunk la linea ai ribbon virtuali e in SIP trunk Teams in casa non avete più nulla se non pc e cuffie abbiamo già un bel po' di progetti di questo tipo è una cosa che sta piacendo molto e funziona molto 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 bene comunque il messaggio finale che deve passare è che noi comunque Teams riusciamo anche solo per uno start up a integrarvelo con qualsiasi piattaforma telefonica che avete in casa tranne Vodafone Rete Unica scusate ma lì purtroppo Vodafone è chiusa e non si può fare nulla per cui lì ci siamo arresi perché se no senza di loro non riusciamo andare avanti abbiamo certificato i nostri apparati comunque con Vodafone linee normali con BT Italia e lo stiamo facendo l'abbiamo fatto anche con Welcome quindi siamo in contatto diretto anche con i carrier chiudo la parentesifonia perché ho già sforato un pochino e servirebbe tanto altro tema ok io vi ringrazio e passo la parola a Francesca che ci illustrerà appunto i dispositivi logiche che vanno ad estendere le funzionalità di Teams in ambito sale vanno anche a facilitarne l'utilizzo Francesca sì eccoci qua eccoci qua ti passo la parola buongiorno a tutti mi vedete sì sì Francesca ti vediamo vedete la mia presentazione io il video lo attivo proprio perché l'argomento della mia presentazione verterà sulla video collaboration pertanto voglio passare il concetto che il video sia una componente molto importante della collaboration adesso però lo stacco perché altrimenti rischiate di perdere l'attenzione il tempo è poco gli argomenti sono tanti chiaramente questo vuole essere un antipasto un aperitivo un appetizer e il mio desiderio è quello di invogliarvi a conoscere meglio le soluzioni di videoconferenza Logitech vi invito già da subito a contattarmi qualora voleste approfondire io sono Francesca Fracassini e sono senior account manager Logitech per la divisione della video collaboration scusate ma non riesco ad andare avanti con la presentazione ho un problemino dal punto di vista tecnico forse qualcuno mi riesce a supportare perché non neanche con le frecce di powerpoint ti mando avanti no prima l'abbiamo provata andava l'inconveniente eh sì il bello della diretta esatto insomma Mirko se vuoi condividerla tu forse perché allora aspetta però sì aspetta aspetta perché devo devo diventare dateci un secondo scusate ripeto il bello della diretta scusate infatti ok anche perché l'abbiamo testata quindi allora aspetta Francesca che la vado a prendere perché non ero pronto intanto prova prova a ricondividerla magari magari esatto c'è ok allora io ce l'ho vediamo ok io ce l'ho eccoci ok forse è andata perfetto ok ok scusate il piccolo inconveniente Logitech in numeri è un'azienda basata con headquarter in Svizzera conta circa 7000 dipendenti 278 billion di fatturato nello scorso anno fiscale e una presenza in più di 100 nazioni Logitech ha 5 linee di business sicuramente quella che conoscete di più è la linea di business che noi definiamo creativity e produttivity quindi quella che riguarda mouse tastiere e webcam tuttavia da circa tre anni a questa parte a queste business unit prettamente consumer si è aggiunta una business unit più enterprise e che è appunto quella della video collaboration è una business unit che è diventata talmente importante all'interno della Logitech da dar vita a una divisione separata che è appunto quella che noi definiamo Logitech for business di cui io faccio parte è una divisione molto molto importante con figure dedicate figure tecniche appunto dedicate al segmento enterprise siamo partiti chiaramente da qui siamo partiti dalla webcam era il 1998 e questo era un prodotto all'epoca molto molto innovativo adesso il portfoglio di prodotti per la videoconferenza si è ampliato moltissimo e possiamo vantare una linea di prodotti che vanno a soddisfare tutte le esigenze dalla scrivania personale fino alla sala riunioni di grande dimensioni il successo delle nostre soluzioni di videocollaboration dipende anche dal fatto che il mondo della videocollaboration è cambiato nel corso degli anni se si pensa al passato io mi ricordo sale di videoconferenza enormi attrezzate con apparati difficili da gestire difficili da utilizzare con protocolli proprietari e soprattutto il servizio di videoconferenza era un servizio dedicato magari ai top manager agli utenti VIP oggigiorno il mondo è cambiato chiaramente tutti fanno videoconferenza dallo stagista al top manager e quindi è impensabile l'idea di continuare a dare sistemi complicati difficili da gestire e costosi c'è la necessità di dare strumenti semplici strumenti economici e strumenti facili da utilizzare a tutti i livelli i punti di forza dei prodotti Logitech per la videoconferenza sono appunto tre innanzitutto la semplicità semplicità è una parola chiave ha iniziato Marilena a parlare di semplicità ha continuato Mirko adesso io vorrei che portasse a casa il concetto che la prima caratteristica dei prodotti Microsoft è dei prodotti Logitech appunto la semplicità di utilizzo perché se un prodotto non è semplice l'utente normale non il tecnico ma l'utente basic si disinnamora di una tecnologia e quindi probabilmente la prossima volta non la utilizzerà più un altro punto di forza dei prodotti Logitech per la videoconferenza è il fatto che non abbiano codec proprietari chiaramente stamattina stiamo parlando di Microsoft Teams ma sappiate che per vostra informazione i nostri prodotti di videoconferenza sono compatibili anche con altri software di videocollaboration un altro punto di forza da non trascurare soprattutto in questo periodo storico è la parte economica i nostri prodotti per videoconferenza sono economici sono economici ma io dico sempre non cheap sono economici perché l'ambizione della Logitech è far sì che in ogni sala riunione ci sia un apparato di videoconferenza e che nessuna sala riunione venga lasciata sguarnita diciamo così a livello di partnership chiaramente noi non vendiamo direttamente vendiamo tramite partner uno dei nostri partner certificati uno dei nostri partner più importanti è centro computer a livello di partnership invece per quanto riguarda il software uno dei nostri principali partner è chiaramente la microsoft tuttavia abbiamo anche un'altra serie di collaborazioni che sono quelle che potete vedere in questa slide ecco questa è quella che per me è la slide fondamentale principale di tutta la presentazione quella che vorrei che vi ricordaste alla fine questa slide mi dice che la logitech oggi giorno ad oggi è in grado di fornire una soluzione per ogni spazio di riunione quindi dalla scrivania personale fino a che può essere anche a casa tra l'altro soprattutto in questo periodo storico dove penso che molti di voi stiano lavorando da casa fino alla sala riunioni di grandi dimensioni la logitech ha un prodotto di video più prodotti di videoconferenza da consigliare per quanto riguarda la postazione personale io mi raccomando sempre soprattutto adesso che stiamo lavorando da casa avere una webcam e avere una cuffia che mi garantiscono una qualità dell'audio video di livello discreto è fondamentale per garantire una comunicazione efficace come logitech chiaramente abbiamo una grossa fetta del mercato mondiale a livello di webcam e questa nello specifico che vedete nella diapositiva quella che sto utilizzando si chiama logitech brio è una webcam a 4k con l'hdr windows e lo e tutta una serie di funzionalità molto molto evolute allo stesso modo abbiamo una linea di cuffie professionali che diciamo adesso che sto lavorando da casa mi permettono di arrivare a fine giornata piuttosto che utilizzare le cuffie magari dell'iPhone riuscire a fare telefonate di qualità e non arrivare stressata alla fine della giornata ma passiamo al fulcro della nostra presentazione quindi le sale Teams le Teams Room come logitech abbiamo a disposizione tre kit noi definiamo kit small kit medium e kit large a seconda appunto della dimensione della sala per noi è una sala piccola è una sala che può ospitare da sei a otto persone a otto posti a sedere una sala di dimensioni media una sala che può ospitare una media di dieci da dieci a quattordici persone una sala riunioni grande una sala che ospita da quattordici persone fino a circa quaranta adesso entro più nel dettaglio dei dispositivi che andiamo a suggerire per ogni sala riunione quindi sala di piccole dimensioni quella che va di moda chiamare adult room il dispositivo che consigliamo si chiama logitech meetup meetup è un only one dispositivo only one quindi all'interno di un unico apparato c'è una videocamera con risoluzione 4k ultra hd zoom digitale 5x 3 microfoni e un altoparlante questo dispositivo ha un grandangolo di 120 gradi proprio perché essendo pensato per le sale di piccole dimensioni nelle sale di piccole dimensioni il monitor e il tavolo sono molto vicini quindi con questo grandangolo molto ampio la meetup riesce a captare le persone sedute anche molto vicino al monitor questo dispositivo così come la rally che vi farò vedere nella slide successiva ha una tecnologia che si chiama autoframing o right side che vuol dire che la videocamera riesce a riconoscere le figure all'interno della sala e ad aggiustare l'inquadratura di conseguenza quindi se nella sala c'è un'unica persona la meetup o la rally riconoscono quella persona e le inquadrano dopo un minuto se si è aggiunta una seconda persona la meetup fa un passo indietro passatemi il termine è aggiusta l'inquadratura inquadrando anche questa persona che si è aggiunta quindi meetup il dispositivo per sale di piccole dimensioni per sale medie e sale grandi il dispositivo si chiama Logitech Rally Logitech Rally è una soluzione modulabile modulabile vuol dire che io rally lo posso acquistare in diverse configurazioni quindi nella versione standard per sale per sale di medie dimensioni il rally ha una videocamera che è una videocamera molto performante anche in questo caso un 4K con uno zoom questa volta ottico 15x un campo visivo di 90 gradi rally nella sua versione standard ha un altoparlante che è una vera e propria soundbar che riproduce un suono molto potente corposo ha un microfono al cui interno ci sono 4 spicchi microfonici a doppio corpo che riescono a captare la provenienza della voce del parlante principale focalizzandosi su questa e anche eliminando dei rumori fastidiosi di eco riverbero quant'altro quello che non vedete in questa slide all'interno del kit rally sono compresi anche due hub che si chiamano table hub e display hub e servono per facilitare l'installazione per far sì che l'installazione sia pulita ma veniamo al superstar del portfoglio Logitech il nostro controller touch di sala che si chiama Logitech Tap che non è altro che un display touch che viene venduto sempre e ribadisco sempre in bundle con il suo NUC con il suo mini pc su cui è precaricato un client Microsoft Teams Room in questo caso questo dispositivo si può posizionare sulla parete della sala riunioni oppure sul tavolo l'utente l'utente anche meno tecnologicamente avanzato non dovrà fare altro che entrare nella sala riunioni senza dover portare il proprio pc senza dover preoccupare di portare nessun dispositivo perché appunto sul tavolo della sala riunioni troverà questo dispositivo vedrà elencati sul tap i meeting della giornata cliccherà sul suo meeting quindi con un semplice tap e questo è il motivo per cui il dispositivo si chiama così l'utente entrerà nella riunione e attiverà tutto l'apparato di videoconferenza quindi senza bisogno di coinvolgere nessuno dal punto di vista tecnico cosa succede se sono un grande cliente e se ho ad esempio facciamo il caso 100 sale di videoconferenza logitech logitech microsoft kit installati in giro per il mondo nessun problema perché la logitech ha rilasciato un tool che si chiama sync e che permette di controllare tutte le mie sale di videoconferenza sparse per il mondo ci tengo a dire che sync è totalmente gratuito quello che fa sync è controllare che tutti gli apparati di videoconferenza logitech siano up and running all'interno delle varie sedi dei clienti sparsi per il mondo e se ci sono aggiornamenti di firmware disponibili con soli tre click si possono lanciare quindi si possono anche programmare evitando quegli imprevisti che di cui molti clienti mi parlano ad esempio quello di entrare in sala a riunioni trovarsi nel bel mezzo di un consiglio di amministrazione e avere l'apparato di videoconferenza che sta facendo gli aggiornamenti ecco questo con sync ve lo potete dimenticare per fortuna questa appunto è l'interfaccia di sync dove potete vedere come potete vedere è molto semplice adesso è in inglese è disponibile anche in italiano da pochi giorni a questa parte in sync io riesco a vedere tutte le mie sale e riunioni so quale apparato è installato in ogni sala e riesco anche a vedere quali problematiche ci sono se ce ne sono nelle varie sale e riunioni qui vi riporto un po' gli esempi di sale attrezzati con i nostri apparati questo è un adult room quindi come potete vedere c'è un monitor sotto al monitor tramite una staffa è stata fissata la meetup sul tavolo c'è il controller touch che si chiama tap nella sala riunioni di medie dimensioni abbiamo messo una bella rally con il suo tap quindi vedete sotto il monitor c'è la videocamera sopra il monitor c'è lo speaker un microfono sul tavolo e il suo tap sala ancora più grande doppio speaker videocamera due microfoni e tap posso anche utilizzare il doppio monitor e sappiate che alla soluzione rally nella sua versione plus quindi quella con due microfoni e due altoparlanti posso aggiungere fino a cinque ulteriori microfoni di espansione in questo caso vado a soddisfare sale più grandi sale che possono accomodare anche una quarantina di persone e questa è la boardroom di cui parlavo prima con ancora il doppio monitor la rally plus e il tap sul tavolo per la gestione del meeting in teams come dicevo con questo portfoglio di prodotti siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze e siamo in grado di fornire una soluzione per ogni tipologia di spazio di riunione io ho finito sono andata velocissima spero di avervi dato qualche spunto e chiaramente se volete approfondire io sono disponibile alla fine della call riceverete i miei contatti potete contattarmi telefonicamente via mail io lo dico io lo dico sempre a me fa piacere parlare con tutti perché le esigenze sono le più disparate e chiaramente è difficile affrontarle in un webinar in dieci minuti detto questo ripasso la parola a Mirko grazie grazie Francesca sì ci sono un po' di domande in realtà abbiamo abbiamo risposto io e Laura nel frattempo mentre voi parlavate però alcune magari le riprendo intanto vi evidenzio che riceverete registrazione dell'evento e le slide ovviamente delle nostre tre presentazioni ve le invierà il nostro marketing quindi riceverete tutto il materiale potete rivedere l'evento ovviamente oggi abbiamo dovuto concentrare un po' le informazioni perché sono argomenti molto vasti e lo stesso Teams ha tantissime sfumature che meriterebbero delle approfondimenti così come le soluzioni Logitech hanno diverse diverse possibilità che meritano approfondimento ovviamente siamo disponibili poi successivamente per ognuno di voi a calarli all'interno della vostra realtà ci sono alcune domande abbiamo risposto quasi a tutte allora in realtà però voglio riprenderne alcune che sono indicative in una mi viene evidenziato che esiste già un centralino cloud lato Teams e quindi se posso integrarlo si dipende ovviamente dal gestore del centrino cloud cioè se l'apertura c'è per fare un SIP trunk con Teams e gli apparati SBC non c'è problema se c'è chiusura come nel caso di Vodafone Rete Unica che è un sistema chiuso allora questo è un problema ma non è un problema di Teams è un problema di chi gestisce il centralino cloud però potenzialmente è integrabile qualsiasi cosa perché comunque pur avendo i suoi protocolli ragiona anche in standard SIP per cui non è un problema lato Logitech viene chiesto se la TAP richiede una licenza sì la TAP a tutti gli effetti è un utente Teams quindi ha bisogno di una licenza 365 in realtà esiste la licenza Meeting Room che posso dedicare alle sali e riunioni quindi è una licenza specifica che comprende tutto il necessario per una sala riunione posta elettronica Teams Audio Conference e Phone System che è la licenza per l'integrazione con la fonia quindi se volete integrare col centralino per fare le chiamate audio lo si può fare questa comprende tutto ok poi potete dargli o una vostra licenza 365 che ha quantomeno posta e Teams oppure dargli la licenza Meeting chiedono se Logitech ha risolti i problemi di riassortimento si possono ordinare i prodotti oddio qua Francesca lo lascio a te allora ho detto ieri a Mirko che aspettavo questa domanda perché è la domanda da 100 milioni di dollari che in questo periodo ci fanno tutti i prodotti di Logitech di videoconferenza così come penso i prodotti anche di altri vendor sono richiestissimi in questo periodo dove per ovvi motivi ci siamo ritrovati tutti a dover fare la videoconferenza e probabilmente non eravamo preparati le nostre fabbriche sono in Cina per quindi per circa due mesi sono state chiuse e quando hanno riaperto chiaramente si sono trovati una miriade di ordini da gestire e che adesso stiamo cercando di gestire appunto nel miglior modo possibile il magazzino è in continuo riassortimento la mia raccomandazione è sempre quella di inserire gli ordini perché chiaramente prima inserite gli ordini prima riceverete questo è però non posso negare che non abbiamo avuto ultimamente dei problemi di riassortimento ma come potete capire il periodo insomma è critico confermo che i problemi ce li hanno tutti quindi ecco no no ma in ogni ambito perché mi sono posta anche il problema se fossimo solo noi però invece anche guardando in giro anche chiedendo a partner come a centro computer mi sono resa conto che comunque c'è stato una corsa all'accaparramento di tutti quelli che sono i prodotti per la videoconferenza io scherzando dico questi prodotti sono andati a ruba come la mucchina e le mascherine in questo periodo insomma ci chiedo se la logica del gruppo è ancora disponibile è una bella domanda perché ormai vendo solo rally quindi sì anch'io vorrei noi spingiamo per rally perché chiaramente rally è il prodotto più nuovo è il prodotto più evoluto è il prodotto tecnologicamente più avanzato chiaramente rally è su una fascia di prezzo diversa rispetto a group group è ancora disponibile confermo se il cliente ha un budget diciamo non 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 cospicuo non può chiaramente orientarsi verso group se il cliente vuole acquistare qualcosa di più nuovo e più performante il prodotto è indubbiamente rally ok io sottolineo l'enorme differenza di qualità per le due soluzioni quando prendete io ho lavorato tanto anche con le group le group hanno fatto il loro dovere fanno il loro dovere però la sensazione di avere in mano una rally parlo del kit con gli speaker i microfoni avere in mano una group sono due cose completamente diverse la stessa telecamera della rally è un'evoluzione che bene solo averle in mano si sente la differenza perché una rally camera è un apparato di un certo peso la group funziona bene per carità ma è un apparato diverso insomma sembra anche un po' più un giocattolino probabilmente non per sala riunioni ma per postazioni desktop aziendali cosa c'è a costo inferiore dei 200 euro beh avete allora in termini caspita sono richiestissima stamattina per i desktop allora diciamo che a livello di desktop abbiamo una linea di webcam ci sono 4 webcam certificate per il business che partono da circa 30 euro per arrivare a 160 mi sembra questa che sto utilizzando io si chiama Brio è quella di fascia alta esistono poi due prodotti che si vanno a a porre in una fascia intermedia tra la webcam e il prodotto di videoconferenza da sala questi due prodotti si chiamano BCC 950 o Logitech Connect e sono apparati che noi consideriamo da scrivania perché chiaramente sconsigliamo di metterli in una sala riunioni ma sono due apparati anche portatili che vanno bene in quelle salette o magari negli uffici dei manager in quegli uffici in cui piccoli in cui si vuole comunque fare una videoconferenza di qualità quindi si chiamano Connect e BCC 950 apro una parentesi secondo me interessanti sul discorso Brio la Brio è certificata Windows 0 allora torniamo al discorso sicurezza noi stiamo andando sul mondo che ci porterà le passwordless oggi abbiamo le MFA basate su tutta una serie di strumenti che possono essere semplicemente la mail o il Microsoft Authenticator io lo uso anche per Paypal per dire per cui una app gratuita che può servire anche in questo senso ma stiamo andando sul mondo password sul mondo biometrico sul mondo con altri dispositivi per il controllo della sicurezza dotare fin da ora perché è già possibile poi mettere in pratica questo tipo di di soluzioni fin da ora magari i desktop di un dispositivo video come la Brio è ovvio che ha un costo ma tutte le cam certificate Windows 0 sono cam importanti mi potrà poi permettere se la mia strategia è tra 6.5 e l'adozione ma deve essere deve esserci l'adozione della security di un certo tipo allora mi potrà permettere di sfruttare quel tipo di tecnologia non mi dovrò più preoccupare di installare applicazioni all'interno dei miei dispositivi mobili o di farmi mandare delle mail o usare token hardware potrò sfruttare la cam per l'integrazione con Windows 0 e quindi l'autenticazione sui tenant lo so che può essere un po' futuribile però sai quando faccio un investimento magari spendo 100 euro su una cam ne spendevo un po' di più e avevo già un sistema che mi proiettava verso una security del futuro anche se è già poi reale ok quindi c'è da fare anche questi ragionamenti ormai tutto questo tutti questi mondi si stanno intersecando no? chi produce l'hardware lo produce integrandolo con i sistemi di sicurezza e di sviluppo magari di chi produce la collaboration o gli accessi o la posta cioè bisogna fare veramente a livello IT un ragionamento a 360 gradi non fermarsi sul fatto che una cam costa 30 euro e l'altra 100 devo capire qual è la mia evoluzione dove voglio arrivare se voglio arrivare là devo prendere gli strumenti giusti io quando ho iniziato a vendere collaboration la gente mi comprava non mi comprava delle cuffie da 5 euro per poi buttarle via dopo una settimana perché non aveva chiaro dove voleva arrivare ma sì forse le uso mimo ma oggi la gente investe in cuffie di qualità da X euro perché ha capito che sono strumenti fondamentali però quei 5 euro spesi prima li hanno buttati via è un parallelo solo per darvi un'idea che bisogna veramente fare un piano di dove si vuole arrivare e investire i soldi in maniera giusta questo è un concetto che sicuramente poi sposa il discorso dell'ebrio e di Microsoft a questo punto di vista allora aspettate che leggo ok questa l'abbiamo fatta chain roadmap un prodotto nuovo di nuova concezione qualcosa di simile alla Panacast di Poli oddio qua abbiamo fatto la fusione di due di due la Panacast di Jabra la Panacast Poli ha la studio è un'altra cosa ancora la Poli è in casa Logitech la metà sono uguali fanno le stesse cose cambia una è quadrata una è tonda ma non cambia nulla la Panacast ha una sola cosa differente rispetto alle altre ha una visione molto più ampia ma è grande come un pacchetto di sigarette costa come una tabaccheria quindi e non ha la parte audio se non sbaglio stavo arrivando anche lì se voglio la parte audio integrata devo comprare un hub aggiuntivo io conosco bene anche i prodotti Jabra quindi non 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 come posso dire dico come stanno le cose la parte audio è esterna devo avere uno scatolino aggiuntivo che è un hub dove collego uno speaker Jabra aggiuntivo il 710 è il top di gamma ce li ho anch'io funziona benissimo però è un insieme di cose il mondo sta andando verso delle soundbar attrezzate col video perché perché quando io parlo e ascolto guardo dove arriva il suono quindi se io metto uno speaker al centro di un tavolo la gente è tutta lì che guarda lo speaker la telecamera ce l'ha sul monitor questo è uno studio il nostro cervello ragiona così per cui tutti i produttori stanno andando su soluzioni ovviamente su sale piccolo medio piccole su sale grandi dopo lì si apre un mondo perché ci sono gli audio esterni e tutto il resto però sulle soluzioni di sale medio piccole tutti stanno andando verso delle soundbar concedetemi il termine anche se non sono delle soundbar con l'integrazione telecamere 4k in modo tale che quando noi parliamo parliamo verso il video e vediamo in faccia gli interlocutori questa è stata la scelta Logitech è stata la prima bisogna dirlo gli altri sono arrivati hanno copiato è la scelta perché c'è una motivazione in questo momento javra ha la panacas che ha solo questa peculiarità cioè c'è uno stanzino di un metro per un metro e voglio riprendere tutti è ovvio che ho bisogno di una visuale molto molto ampia ma non ha nient'altro quindi non è che sia una soluzione avveniristica ha solo un grandangolo perché ha più telecamere lo dico ripeto perché la conosco bene ce l'ho anche in casa noi testiamo tutte le soluzioni quindi non è un problema per cui io sinceramente costo e opportunità se ho un certo tipo di esigenza se però devo avere una visuale ampia è ovvio che ricopre quel tipo di nicchia poi lascio rispondere magari Francesca perché poi magari in cantiere avete qualche novità che io non so come dicono gli inglesi stay tuned non posso parlare di quello che arriverà in futuro però posso parlare di quello che abbiamo adesso la meetup è un ottimo prodotto e mi aggancio anche a un'altra domanda di un altro partecipante è un prodotto per sale e rignoni di piccole dimensioni ecco questo è il concetto che io voglio far passare di cui mi 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 per impegnarmi a far sì che questo concetto passi è importante mettere il prodotto nella sala delle dimensioni corrette quindi se io metto una meetup in una sala da 40 posti è logico che quello che è seduto in fondo al tavolo avrà difficoltà a farsi vedere a farsi sentire la meetup è un apparato per salette quindi salette da 6-8 posti a sedere ok perché proprio il suo apparato di audio e la sua e la sua videocamera sono dimensionati per una saletta di piccole dimensioni non non parlo della panacast perché chiaramente ne ha già parlato Mirko e poi non conosco bene il prodotto della concorrenza so solo che è proprio un altro prodotto è proprio allo stesso prezzo della meetup gli manca l'apparato audio quindi sì sì è proprio un altro prodotto per cui non si possono al momento paragonare se uno me le paragona con Poli o IaLink ci può stare perché hanno le loro soluzioni analoge ripeto Logitech poi è arrivata è arrivata prima e ha fatto strada e quindi ci sta ma sulla panacast è un altro tipo di prodotto molto di nicchia secondo me soprattutto anche perché ha un costo come diceva giustamente Francesca solo per la parte video forse anche superiore a una meetup forse per cui insomma sì non si può paragonare ok chiedevano vabbè l'utilizzo lo hai lo hai ribadito tu Francesca sì allora io esatto vediamo questa ricchiera non abbiamo detta ok 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 direi che al momento le abbiamo risposte tutte ok mi sembra che abbiamo risposto a tutti ok nel frattempo se non ci sono domande magari vediamo se poi ne arriva qualcuna tanto vi ringrazio perché avete resistito fino alla fine e quindi grazie abbiamo un po' un po' sforato noi abbiamo fatto il possibile purtroppo gli argomenti come vi dicevo sono molto vasti per cui è difficile anche in un'ora riassumerli tutti ovviamente siamo tutti a disposizione per approfondirli con voi anche perché veramente sono soluzioni che vanno contestualizzate all'interno delle vostre esigenze la cosa il messaggio che deve passare è che veramente possiamo rispondere a ogni esigenza in ambito collaboration con n soluzioni logitech e teams in ambito fonia con teams con tutte le sue varie possibilità e ovviamente all'interno di quella bellissima suite che è 365 in tutte le sue varianti rispondere anche lì veramente in tante tante esigenze ricordatevi che è un percorso si inizia magari come vi dicevo all'inizio perché per esperienza ormai non è veramente non ho seguito tante migrando la posta in cloud che è un po' la base di tutto ma poi pian pianino verrete guidati aiutati nell'adottare ogni singola soluzione ed integrale con tutte le altre e a quel punto davvero davvero potete godere appieno di quello che sono i vantaggi reali di una soluzione come tracer 5 quando adesso parlo parlo anche da utilizzatore perché io ormai non posso fare a meno di poter usare i miei file ovunque sono di poter collaborare con teams chiamando interni esterni e via dicendo di trovare le mie informazioni in repository definiti non a caso all'interno di mail o cose varie noi stessi oggi per fare questo webinar abbiamo creato un team temporaneo dove all'interno abbiamo condiviso presentazioni informazioni e via dicendo poi magari domani questo team verrà cancellato e in futuro ne creeremo ancora però l'utilità di condividere le informazioni e di lavorarci insieme è impagabile così come è impagabile me ne sto pentendo anch'io che sto usando la cam del portatile e avere una qualità migliore mi si vede bene purtroppo sono a casa e adesso mi attrezzerò per avere una cam migliore anche a casa una qualità video e audio perché poi i dispositivi hanno anche l'audio integrato una qualità video e audio veramente alta e parliamo di soluzioni con questa qualità ok bene io ho altre domande non le vedo intanto io ringrazio Francesca e Marilena per il loro intervento e per la loro disponibilità ringrazio voi che avete partecipato vi ricordo che riceverete tutto il materiale necessario noi ogni mese organizziamo diversi webinar come centro computer su diversi argomenti sul nostro sito trovate la sezione news con tutti i webinar che organizziamo dove potete iscrivervi ma il nostro efficiente marketing vi manderà sicuramente gli inviti del caso quindi vi teniamo abbondantemente aggiornati ok per approfondire il discorso noi siamo a disposizione risponderete ai vari contatti che abbiamo e noi possiamo tranquillamente organizzare dei meeting dedicati per calarci nella vostra realtà ok grazie di tutto non ci sono altre domande ragazze grazie e niente buona giornata ci risentiamo va bene grazie mille buona giornata grazie grazie a tutti buon giorno a presto a presto grazie a tutti grazie a tutti